Bentornati su MyFootballJersey. Oggi vediamo la prima maglia dell'Italia per l'annata 23-24 in edizione player, la maglia indossata dai calciatori. Il design di gran parte della collezione è ispirato al marmo, elemento naturale, geografico e culturale che rappresenta l'Italia e con lei molti monumenti e luoghi culturali del paese nel corso dei secoli. Il kit home, a base azzurra come da tradizione, riproduce in maniera integrata l'ispirazione al marmo su tutta la maglia e i pantaloncini di gioco. Un elemento replicato sul tessuto attraverso un lavoro manuale in cui convivono la tradizione artigiana nella cura della materia prima e tecniche di alta innovazione. Oltre all'esclusivo pattern, sul kit home sono presenti altri riferimenti alla cultura italiana. Come i dettagli del tricolore inseriti delicatamente sulle spalle. Ad ognuna delle tre strisce Adidas è stata inserita un'elegante bordatura che ricrea i colori della bandiera italiana. Questa maglia è molto bella, nella mia classifica prende 4 stelle, una delle maglie più belle dell'Italia sicuramente degli ultimi anni. Tra l'altro di un'ottima qualità. Qui in alto vedete il costo che vi ricordo include anche le spese di spedizione. La spedizione è veloce, arriva in circa 20-25 giorni e la qualità è ottima. Veramente incredibile. In descrizione qui sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Trovate anche un link per ottenere un coupon da 5 dollari che potete utilizzare per comprare questa e altre bellissime maglie. Ora vi lascio la parte finale nella quale vedrete la vestibilità. Prima di farlo mi raccomando lasciateci un like e iscrivetevi al canale. È l'unico modo che avete per farci crescere ed avere altre recensioni in futuro. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa.